Vogliamo dare un chiaro segnale insieme all'ufficio scolastico provinciale di vicinanza ai nostri ragazzi. Con questa campagna nelle scuole che noi ci siamo, la Polizia di Stato c'è, per qualunque disagio, per qualunque situazione, siamo pronti a intervenire nei confronti di bulli e di persone che comunque pongono in essere condotte di violenza, non soltanto fisica ma anche psicologica, nei loro confronti. Vergogna, paura, solitudine, sono solo alcuni dei motivi che possono indurre un giovane che vive situazioni di disagio sociale, familiare o psicologico a scappare e percorrere strade sconosciute e spesso pericolose, ignorando che invece un modo per porre fine a condotte riprovevoli c'è. Nella giornata internazionale dei minori scomparsi, che ricorre il 25 maggio di ogni anno, la Polizia di Stato ribadisce la vicinanza delle forze dell'ordine ai più giovani attraverso una campagna di informazione e sensibilizzazione portata avanti in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale di Chieti Pescara e i ragazzi della consulta degli studenti. Maltrattamenti, piccoli reati e cyberbullismo, la Polizia di Stato c'è, pronta a proteggere i ragazzi e a non lasciarli soli, come spiega il questore di Chieti Annino Gargano. Proprio nella giornata di oggi la Polizia di Stato ha voluto lanciare un messaggio chiaro di vicinanza ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, agli adolescenti vittime di un disagio purtroppo aggravato dalla situazione della pandemia tuttora in corso. Ci sono situazioni, fatti, cose che possono indurre i nostri ragazzi, i nostri adolescenti in particolare ad assumere delle decisioni pericolose per loro stessi e di conseguenza per le loro famiglie. C'è personale specializzato, donne e uomini delle sezioni della squadra mobile, dell'ufficio minori della questura pronti a intervenire ad ogni manifestazione, ad ogni richiesta. In questo senso le app più importanti, tra cui YouPol, consente ai nostri ragazzi di poter immediatamente dialogare, conversare, segnalare, denunciare al personale nostro specializzato situazioni che è opportuno prendere in tempo utile, in tempo reale, proprio per evitare che le situazioni possono degenerare. L'attività di informazione e sensibilizzazione della Polizia di Stato coinvolge anche le scuole con attività educative alla legalità e, come spiega Rossella Mosca, dell'ufficio scolastico di Chieti Pescara, anche attraverso lo studio dell'educazione civica. La scuola crea quella situazione di continuità nel territorio tra i vari agenti e la scuola che collabora con la Polizia di Stato da molto tempo nell'implementazione di tutti i progetti che portano alla formazione del cittadino consapevole e responsabile. In particolar modo volevo ricordare la Costituzione della Consulta degli Studenti, che è un organismo di diretta rappresentanza del MIUR. Due ragazzi eletti in ogni scuola superiore della provincia di Chieti che sono impegnati nella diffusione delle metodologie per la cittadinanza attiva negli istituti, nei loro istituti.